Da parte nostra non c'è astio e rancore nei confronti di nessuno, c'è solo voglia di sapere la verità. Queste le parole di Antonio Mondelli, legale difensore della famiglia di Giuseppe Spinelli, l'88enne investito e ucciso da due auto martedì sull'ex strada statale 267 a Castellabate. Il riferimento è alla posizione di Luisa Maiuri, la vicesindaco indagata per la morte dell'anziano insieme al conducente di un'altra auto. La donna risponde anche di omissione di soccorso. A noi, aggiunge il legale, interessa sapere se la persona investita era già morta nel momento del passaggio dell'alfa guidata dal vicesindaco che è passata sopra il corpo dell'anziano dopo otto secondi che lo stesso aveva impattato con l'Audi. Siamo convinti che la responsabilità c'è se non di entrambi i conducenti, almeno di uno dei due. Comunque attendiamo l'esito dell'autopsia. L'esame è stato fissato per oggi alle ore dieci presso l'ospedale di Vallo della Lucania e è affidato al dottor Lombardo. Intanto il sindaco Spinelli ha rinviato il consiglio comunale previsto per oggi per rispetto della famiglia Spinelli e delle persone coinvolte in questa tragedia. La minoranza consigliare interviene attraverso costabile Maurano. Quanto è accaduto è un fatto certamente grave e non ci fa piacere essere alla ribalta nazionale per vicende del genere e sulle richieste di dimissioni del vice sindaco le dimissioni non si chiedono né si annunciano. È una questione etica che afferisce alla persona. In questo momento la cosa migliore è restare in silenzio a riflettere, poi ognuno farà le scelte che riterrà opportune.